Scusi, connesso? Ah, ok, edizione mega strogina Ci sono due ragazzi che ci fanno credere paganti Invece si fregano Vediamo chi sono Fadio Tartanese e Malek96 Consiglio a voi i DM Che siete grandi di eliminati Mi hanno fregato E mi hanno imparato molto, bravelli 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 Sapito? Avete capito? Allora vi spiego cosa ne è andato Allora, all'inizio uno mi ha chiesto di 15k Poi lui si è confuso a 25k Poi l'altro voleva 5k Io volevo salire solo di 2 libelli Belli E mi hanno chiesto di 20k Adesso aiutati Ah no, adesso Arrasenappo Capito? Arrasenappo 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 Grazie n'ambo Grazie n'ambo Grazie n'ambo Avete capito voi si è? Avete capito voi si è? Grazie n'ambo Grazie a tutti